bella a tutti ragazzi qui lsg team oggi siamo su world è un gioco praticamente dove devi devi indovinare delle parole ora cercherò di indovinarle non era più iup iuppa rapi api che cazzo c'hanno con ste api cioè 59 livelli non hanno accettato la parola api perché ti fanno qualcosa non so dunque rapa un altro no rapi ra ra rapu pupu rio rio non so raga upa upi non so che cosa come si che parole devo fare quindi passiamo al prossimo gioco world box praticamente devi essere un dio praticamente allora dobbiamo subito bloccare quel vulcano quindi no perché il vulcano distrutto qui quindi siamo qui particolarmente che può creare tutto il mondo perfetto ecco questo è già un mondo perfetto per me quindi iniziamo quindi iniziamo ora alziamo E' quello che intero qui Eh? C'è quello? Ferro? Ok Ma non è in montagna Ecco cosa c'è in montagna No C'è un po' 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 Oh ecco qua Ora pentiamo i nostri umani What? C'è un po' C'è un po' C'è un po' No, no, no. eccoci ragazzi qui dove ci sono Montecittà la città dell'isola chiamata Ghiacci Assoluti dopo qua ovviamente no in realtà si chiamano Shatakh ok dopo Abikot Dacoi Hava Gikohinsk e Macensin e Macensin e basta ci sono anche gli Opusona e gli Asinatred e gli Asinatred un attimo ma qui non ho messo la città eccoci di nuovo ragazzi eccola bene ora la relazione ok bene il video finisce qua spero che vi sia piaciuto e se ci riusciamo potremmo fare altri video su questo gioco comunque noi ci vediamo nel prossimo video ricordatevi di iscrivervi lasciare like e attivare la campanella per stare sempre a te per sapere se abbiamo nuove notizie ciao 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 ciao